Un volontario, qual è la differenza tra un volontario e uno stipendiato? Allora, un volontario ha una prestazione volontaria di lavoro, gratuita o semi-gratuita, fatta al fine di acquisire la pratica necessaria allo svolgimento di attività professionali o di un lavoro, o relativo titolo di riconoscimento. Oppure, possiamo dire, prestazione volontaria e gratuita della propria opera e dei mezzi di cui si dispone a favore di categorie di persone che hanno gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di assistenza, esplicata per far fronte a emergenze occasionali oppure come un servizio continuo, attività individuale o di gruppi o di associazioni. Quindi, evidentemente, questa è una definizione della Trecani, l'enciclopedia italiana. Una prestazione gratuita o semi-gratuita? Il semi-gratuita intende un qualcosa che io ti pago per un minimo, non so, mentre tu fai queste prestazioni, io ti pago un minimo per le tue piccole spese personali, ma non è uno stipendio. Non è uno stipendio, è un rimborso spese di qualcosa semi-gratuita, semi-gratuita. Se però io pago a uno NG, italiano straniera, tra i 1500 e i 2000 euro al mese, questo è un vero e proprio lavoro con contratto. Quindi, se uno dice, va bene, io sono volontario, vado sulla nave, ok, ti sei autoproposto, cioè il volontario in questo senso significa che tu hai detto, io sono disponibile, visto che nessuno lo vuole fare, io sono disponibile, sono un volontario. Cioè, non è l'azienda che fa delle inserzioni e cerca dei candidati, ma io mi propongo, io sono disponibile ad andare, quindi sono un volontario perché sono disponibile a imbarcarmi. Però non è un volontario nel vero senso della parola, volontario perché si è proposto, ma qui la ONG ti paga lo stipendio, a te, come al comandante della nave, i macchinisti, chi fa la manutenzione, sono tutti con contratto stipendiato, sono dei dipendenti di una ONG. ONG, organizzazione non governativa, non significa che tutti sono lì a gratis, ma stanno lavorando. Ok, la differenza volontario, perché io mi propongo per fare questo che nessuno vuole fare, però prendo un corrispettivo, prendo un stipendio, non è un volontariato con una remunerazione semi-gratuita. Questa è la differenza, giusto per chiarire.